All'inizio del diciottesimo secolo la casa reale più importante d'Europa era quella degli Asburgo che non solo regnava sul Sacro Romano Impero ma aveva diciamo vari possedimenti anche in giro per l'Europa tra cui le fiandre spagnole e soprattutto il trono di Spagna. Ma i tempi di Carlo V erano oramai finiti, erano passati 150 anni e il ramo spagnolo degli Asburgo era in forte decadenza tanto che l'ultimo sovrano Carlo II era ormai vecchio era senza eredi e alla sua morte proprio nel 1700 iniziò una delle più importanti guerre che si combatterono sul suolo europeo in quel secolo. Alla morte di Carlo II in teoria la corona spagnola sarebbe dovuta passare alla sua sorella Maria Teresa di Spagna che era già deceduta al tempo della morte di Carlo II e soprattutto era la moglie della di Francia Luigi XIV al Re Sole. Il Re Sole proprio per questa parentela puntava a insediare il suo nipote sul trono spagnolo in modo da riuscire ad unificare le due corone o comunque avere uno stato vassallo della Francia e stendere il proprio dominio su gran parte del continente. Ovviamente a quasi nessuna delle altre potenze europee questa cosa andava bene, infatti subito dopo la morte di Carlo non solo ci fu Luigi XIV a pretendere il trono ma anche altri contendenti i principali dei quali furono Leopoldo I d'Austria che era imperatore e capo della casa d'Asburgo Vittorio Medeo II di Savoia e Massimiliano II Emanuele principe di Baviera che reclamava il trono per conto del proprio figlio che all'epoca era ancora minorenne. In un primo momento la questione parve a risolversi con l'apertura del testamento di Carlo. Infatti in questo documento Carlo lasciava la corona agli eredi della sorella defunta, quindi al figlio e al nipote di Luigi XIV. Proprio per questo motivo cinque giorni dopo la morte di Carlo il nipote di Luigi XIV, il figlio di suo figlio Luigi, venne incoronato come re di Spagna col nome di Filippo dando inizio alla stirpe dei Borbone di Spagna che poi si estenderà anche in altri reni in particolare nelle due Sicilie, in Italia. Ovviamente le grandi potenze europee non avevano intenzione di sottostare a questa proclamazione. La Spagna era un impero sicuramente in decadenza ma era portatore di grandissimi territori soprattutto nell'America Latina e questi territori davano ancora grandi ricchezze e soprattutto chi avesse controllato la corona spagnola avrebbe controllato gran parte delle rotte commerciali motivo per cui il trono spagnolo faceva gola tantissimo anche agli inglesi e agli olandesi che del commercio marittimo facevano una delle principali fonti di guadagno. Già negli anni precedenti alla morte di Carlo II, dopo che si era capito che il sovrano spagnolo non avrebbe avuto eredi e la dinastia degli Osburgo spagnoli sarebbe finita con lui, le potenze europee avevano cominciato a muoversi. Infatti già nel 1698 la Francia e la Gran Bretagna avevano stipulato un accordo di spartizione dell'impero spagnolo e allo stesso modo anche le province unite dei Paesi Bassi erano interessati. Infatti, seppur in decadenza, l'impero spagnolo era portatore di grandissimi territori soprattutto nell'America Latina e in più chi avesse controllato la flotta spagnola avrebbe controllato anche le rotte commerciali gestite dalla Spagna che erano molto importanti. Quando venne reso pubblico il testamento di Carlo II Luigi XIV non esitò un secondo ad annullare il trattato che aveva firmato due anni prima con la Gran Bretagna. Diede il pieno appoggio a suo nipote Filippo per diventare re di Spagna e in pochissimo tempo fece diventare, in pochissime settimane fece diventare la Spagna di fatto uno stato vassallo della Francia. Infatti generali francesi andarono a dirigere l'esercito spagnolo. Vennero instaurati rapporti commerciali esclusivi tra i due Paesi e lo stesso Filippo II era fondamentalmente succube del nonno. Filippo era molto giovane mentre il nonno era già da anni sul trono di Francia ed era uno dei sovrani più potenti del tempo. E questa differenza di levatura si faceva sentire proprio nei rapporti tra le due nazioni. Come ho detto questo era inaccettabile per le potenze europee e per gli altri pretendenti al trono che non stettero ovviamente a guardare senza fare nulla. Infatti Leopoldo I aveva immediatamente rigettato il testamento di Carlo e soprattutto era determinato a mantenere per sé i possedimenti spagnoli in Italia. Vittorio Amedeo II di Savoia aveva pretese meno forti sul trono spagnolo ma aveva pretese molto forti sul Ducato di Milano che era in mano spagnola ma a cui esso puntava per ingrandire i suoi possedimenti. Proprio in ottica di questo obiettivo strinse nel 1701 un'alleanza con Luigi XIV. Fondamentalmente lasciava perdere le sue ambizioni sul trono spagnolo ma allungava le mani sul Ducato di Milano. Proprio il 1701 è decisivo per la successione spagnola. Infatti i vari accordi che i vari pretendenti al trono stipulano tra di loro e contro di loro portano a una conseguenza sola ovvero la guerra. Inghilterra, Olanda e Austria firmano il 7 settembre del 1701 un trattato in ottica anti francese all'AIA e appunto verrà detto trattato dell'AIA e diciamo si pongono come argine alla volontà di espansionismo della Francia e di Luigi XIV. Dopo la formazione di questa grande alleanza in ottica anti francese Luigi XIV continuò comunque nei suoi propositi. Infatti non solo continuò a trattare Filippo II di Spagna e la Spagna stessa come cose sue ma fece una mossa molto ardita. Infatti riconobbe come legittima dinastia inglese gli Stuart che erano fuggiti dopo la gloriosa rivoluzione di qualche decennio prima in Inghilterra. Gli Stuart erano cattolici e appunto riconobbe come legittimo re inglese Giacomo III, figlio di Giacomo II che era stato appunto cacciato dalla gloriosa rivoluzione in Inghilterra ed era finito in esilio in Francia. Questo ovviamente, questa mossa dimostrava l'astio e la volontà di scontro proprio con la corona inglese. I problemi tra Inghilterra e Francia aumentarono nel 1702 quando il re inglese Guglielmo morì e sul trono a Londra salì sua figlia Anna che era molto meno accondiscendente del padre sulla questione dinastica. Non voleva assolutamente sentir parlare di restaurazione di re cattolici, era contraria all'inserimento di cattolici nella vita pubblica inglese e tantomeno nella linea di successione al trono. Nei possedimenti olandesi di Guglielmo invece, dove Anna non poteva salire al potere, prese il potere il partito avverso agli Orange, la dinastia. Questo sembrò spingere le province dei Paesi Bassi dalla parte della Francia, ma non fu così. Non fu così perché le province unite avevano comunque paura che le Fiandre Spagnole che confidavano con loro ed erano finite sotto il regno di Filippo II, quindi sotto l'influenza di Luigi XIV, potessero dare fastidio allo stato olandese. Quindi non si avvicinarono minimamente a Luigi XIV ma anzi si avvicinarono di più alla Santa Alleanza che si era formata per combatterlo. Il 15 maggio del 1702 Olanda e Austria si decidono a dichiarare guerra alla Francia. Il 3 settembre sempre del 1702 si aggiunge a questa lega antifrancese anche il Sacro Romano Impero, guidato appunto dagli Asburgo. Se all'inizio si sperava di mantenere la guerra su un piano marittimo, presto si capì che per battere Francia e Spagne unite si sarebbe dovuto creare un esercito di terra. Questo esercito avrebbe avuto il compito di attaccare la Francia su più fronti. Come ho già detto per Luigi XIV controllare la Spagna era fondamentale. le risorse che le colonie spagnole soprattutto dell'America Latina potevano dare alla corona francese erano pressoché limitate ed era Luigi XIV era assolutamente determinato ad ottenerle. Proprio in Spagna però, dove Filippo V non era, come ho già detto, un fantoccio nelle mani del nonno, i nobili spagnoli non erano contenti di questo. Infatti erano più vicini alla causa sburgica che a quella borbonica e presto cominciarono a creare dei problemi proprio all'interno della Spagna. Nello stesso momento proprio Filippo decise di affidare alla marina francese il controllo dei commerci con l'America rendendo ancora più palese il fatto che le due corone erano oramai unite. Quella che doveva essere una guerra lampo in mare diventò una guerra lunga e in terra. La guerra di successione spagnola aveva tutte le potenze europee del tempo in campo, tranne la Svezia, e durò ben 12 anni. Durante questi 12 anni di guerra le alleanze vacillarono più volte tra loro, ma sostanzialmente i due blocchi rimasero quelli. Si arrivò a una svolta solo con la pace di Utrecht, appunto nel 1714. Il congresso che portò poi alla pace di Utrecht venne convocato già nel 1712 a guerra ancora in corso. L'obiettivo di questo congresso era quello di convincere Filippo a rinunciare al trono di Spagna e a riprendere i suoi diritti di nascita sulla corona francese. Infatti, essendo nipote del sovrano, era seconda in linea di successione al trono francese e quindi si sperava che avrebbe optato per la corona francese piuttosto che quella spagnola, dato che era molto più prestigioso e importante. Provato da questi 12 anni di guerra, anche Luigi XIV era fondamentalmente d'accordo affinché Filippo tornasse ad essere re dal trono di Francia e abbandonasse il trono spagnolo. Ma sorprendentemente Filippo V, che ormai si era integrato nella nobiltà spagnola, aveva imparato la lingua ed era, insomma, si considerava re a tutti gli effetti, scelse di rimanere sul trono a Madrid, complicando notevolmente le cose. Dopo le trattative di pace, comunque, Filippo di Spagna venne confermato re di Spagna, però i Paesi Bassi Spagnoli, le Fiandre Spagnole, appunto, passarono all'Austria, quindi al ramo austriaco degli Asburgo. Oltre alle Fiandre passarono agli Asburgo anche il Regno di Napoli e il Ducato di Milano, oggetto del desiderio di Vittorio Amedeo di Savoia. Allora, mentre la Francia cedeva alla Gran Bretagna alcuni territori nel Nord America, tra cui la Terra Nova e la Baia di Hudson, importantissimi perché da lì poi, diciamo, qualche decennio dopo, inizieranno le prime rivolte che porteranno poi alla nascita degli Stati Uniti d'America. Inoltre, la Francia dichiarò anche decaduti i re cattolici d'Inghilterra e riconobbe Anna come legittima regina d'Inghilterra e gli Stuart ormai, appunto, decaduti e senza più pretese al trono. Nel 1714, dopo ulteriori accordi, la guerra di successione spagnola poteva definirsi conclusa. Questo portava al ridimensionamento degli Asburgo in Europa, sicuramente, perché comunque perdevano il controllo di uno degli imperi più importanti, anche se ricadente. Portava alla perdita di molti dei territori francesi in Nord America e poneva le basi per, come ho detto, qualche decennio dopo, la rivolta che avrebbe poi portato alla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. E soprattutto confermò, dato che la marina spagnola andò in decadenza, confermò il quasi monopolio della marina inglese sui commerci marittimi e dal punto di vista militare, sempre per quanto riguardava l'ambito marittimo. Questo dominio durerà praticamente fino a dopo la prima guerra mondiale, anzi, a poco prima dello scoppio della seconda guerra mondiale. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo una prossima volta. Ciao a tutti!